È stata riaperta il traffico, la strada 479 Sannite. A darne notizia è stato il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che con il settore viabilità ha riaperto al traffico delle auto la strada, mentre restano interdette, su due ruote di moto e bici, le strade incluse nell'ordinanza del dirigente del settore viabilità, l'ingegner Bonanni, in attesa di installare nei prossimi giorni tutta la cartellonistica di salvaguardia che permetterà così la riapertura delle carrabili. La provincia sta lavorando per riaprire la strada regionale 17 bis della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore, che sale fino agli impianti. Il prossimo 13 maggio qui, infatti, arriverà la nona tappa della centunesima edizione del Giro d'Italia. Le operazioni di sgombro neve sono iniziate già dalle prime giornate di aprile dal bivio di Monte Cristo e hanno proseguito senza sosta in questo mese con l'intervento di tre frese dell'ente, condotte dai conducenti provinciali che hanno effettuato come ogni anno un lavoro puntuale, impegnativo e complesso per liberare la strada da cumuli di neve di oltre sei metri sugli ultimi tre chilometri. Il termine di conclusione delle operazioni di pulizia dovrebbe essere quello di domani. Nel frattempo sono stati avviati i lavori della sistemazione dei piani viabili ammalorati sulle altre strade attraverso il rifacimento dei tratti di mante delle barriere laterali. Sono stati conclusi i lavori in particolare su alcuni tratti importanti, sulla 17 bis al bivio rudere di Sant'Egidio, anche quella 97 del lago Racollo, in conclusione dell'ultimo tratto, all'innesto con la strada provinciale 7 di Castel del Monte, nel centro abitato di Santo Stefano di Sessanio. Tra l'altro è stata disposta, con ordinanza del settore viabilità, anche la riapertura della strada 17 bis dal chilometro 28 più 300 in località Monte Cristo a quello 49 più 300 in località Fonte Cerreto, restituendo dunque il collegamento dal versante aquilano da Fonte Cerreto sino a Castel del Monte. Le polemiche però non si placano e per quanto riguarda la chiusura delle strade provinciali, santa anche il decimo motogiro di apertura. A darne notizia, Massimiliano Marifiamma, il presidente del motoclub Motociclisti Aquilani. Un danno economico procurato dal provvedimento incalcolabile secondo Marifiamma. Il motoclub aveva in programma il motogiro di primavera per il prossimo 6 maggio con oltre 100 prescrizioni. Tutto annullato.